bella ragazzi, mi ha trovato un nuovo nuovo video su GTA sto facendo il panico, devo far il panico mazza, non dura il cazzo sto caricatore devo far il panico perché ho deciso, cioè, sono andato su questo ponticello ho detto, fammi sparare dal cavalcavia invece di buttare i sassi che de solito quando si dice sassi che fa, ma andiamo a mare oggi? no, andiamo a sparare dal cavalcavia tranquillo morite male tutti, tutti qua comunque raga, mentre lui gioca io cercherò di fare romanzo criminale che cazzo fai? oh hey c'è un bici c'è l'onore tutti i matti no, non stai con la lomu sta sgrava lomu che quale cazzo le mani l'avevo preso ci riferò a forza un bulo un bulo sta mandando forza un bulo si ha rubato un po' ci riusciamo? vabbè vero allora sono sincero alipani se dice che quando arrivi in cima che quando arrivi in cima sono usciti o cazzo se tu hai fatto a cui stavolizia e ricordi appunto che va a farlo la polizia se ne sa che la polizia eserci non vanno tanto d'accordo america mamma mia tutti ossi a tutto se vuoi buonanotte un progettivo non c'è una mossa non va non c'è un po' da quale d'acqua 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 fresca mamma mia guarda però c'è di farlo cazzo era mamma mia sentato sono così poi vedete come ce la fai oh guarda no 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 è una gara però in questo momento abbastanza complicato anche semplicemente pensare di entrare son trato son trato male però sei voli sei trato ma stai non sei entrato no sei entrata qua giustamente vabbè e infatti ma ria strano ma rifatto rifomano da qua troppo facile di dire eh ho detto vabbè no 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 cazzo ti ho ricordo oh buona no 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 almeno no 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 siamo senza ansia vabbè tanto molto bene cioè tutto il video sarà proviamo ad entrare a forza al culo esatto giro tana di merda di una macchina oddio ora sono entrato e ho capito ma sono entrato pure bene ma roda tranquillo tranquillo guarda vedi girata sulla macchina così ma si fa curve ci serve un cazzo eh me sa che ho fatto una cazzata da andare qua però non ho visto questi puntini oddio ciao zio scusate vai 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 però io so occhio a quello ma c'è una ferma di con alcune di queste ma che cazzo ma che cazzo dici calmato ciao ciao calmato ciao ma me ne sento fast in furiosse in questo momento tipo ma meglio che esci fidate esci esci ah tranquillo esci tranquillo lui si si vai no 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 cazzo ce la fai per forza forza che spera vai vai non tacci vostra mamma se c'è un po' come in mente ora non c'è chi l'ha che è diversa come cazzo hanno fatto vabbè ma fa una gara ho fatto un cazzo un cazzo purosicato ahahah però se mori si no quando abbiamo una macchina lo spieghi ah vero bel problema eh giurare il suo è bello lì via troviamo sicuro una macchina dove bisogna verso della ma qua con macchina giusto è vero che il suo sto per me problema non ha mai stato per l'inferno ahahah 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 non c'è la canzone ma lo so non c'è no boh ahahah pezzirari oh grande che culo vabbè vero questo è peggio la macchina ho preso io mi piace macchina anni 60 vai si vai fa una gara a quattro non forza cazzo non cazzo non c'è non c'è mai non c'è a 10 milioni mamma 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 non c'è mai fatta ma scusa ma cammina no se non c'è mai come un piccione entrare giù buttati mentre la macchina sai che è chiopto arch inflaryn shop l'acqua ih la macchina lomobica mamma soluncio file false l'ultrere laurope bello venire adesso famosa sia è morto beccano non s'ac — quello rights su forza che guarda questa questa è come se non fosse stato un livello bordo fa c'è nessuno da cazzo sta faiare ma perchè qua non ha senso vanno sta gara che ora ti fa la gara qui c'è armati deciso io oggi ma è rimasto tipo tranquillo i porti dei pantaloni tranquillo te che porta il perizoma alipani a belma di faccia oh che palle mamma mia mamma mia vittorio 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 tutti a parte testa bene risposta perchè si notava su mamma mia per favore che non mosovo cittadino di me non ci sei visto la cosa criminale pubblica ma la punza del merda che sta ancora sbam appunto al libanese tutto quanto non punti punto punto ascrocchia c non ce l'hai quattrocento non ce l'ho quattrocento però mi piorò ma lo stesso non ce l'ho tu c'era che cazzo sappiamo ma non ce l'ho niente fa la minima dragata non ce l'hai quattrocento trasparente questo trasparente ma anche senza collisione non è finito che sono così lento perché tranquillo guarda muovo vai 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 ma è un po' di nuovo sarà la macchina di starschia punto cacchia quattrocento merda mamma mia mamma mia che schifo managgia te quando hai detto che tu sei una mano muovo e so e' vero c'è stata la visione di vado a diritto tranquillo come si è morto su qui mi sono so morto si bello mamma mia come lo supera è quasi c'era la collisione era meglio no invece si il computer ma che c'è finitano per secondo giro che sopra non so un po' del check point no ma che so i libri tutti dal primo all'ultimo no vabbè la parola terzo quarto scusa ma non ci avrò mai dai traguardo ma dai ultimo ma l'importante è partecipare chi va piano va sano e va lontano quindi è giusto così è probabile che sto video lo vedete noi siamo già morti quindi vabbè e diciamo che per questa gara di merda e il mio tentativo fallito di vendere un caccia abbiamo fatto vincere giustamente e si perché siamo gentiluomo che il libanese è sempre stato un gentiluomo che donne pure il freddo e il bufalo e il Daniel è meglio quindi ve salutamo io ve saluto così bella